e la faccio per quelli che hanno a che fare con l'espresso si, il resto è in discesa espresso, yeah espresso, yeah la prima volta perché se lo aspetta espresso ma senza la macchinetta magari con qualcos'altro con la macchina quella posta per fare il cui caffè e adesso mettermi una canzone per te e con una volta sì, sai perché come ti chiami, my brother, what's your name? Marcus 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 sa che fare con il caffè e sta registrando questa canzone fatta per me e per te Marcus, si è fermato qui io resto in discesa ai piedi di ciò e gli sci e la posso fare per lui che il caffè se lo vuole avere ma non vuole anche correggere per potersi ubriacare si, si, io lo so espresso 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 il nome è gusto io dovrei mettere l'imbusto lo posso fare lo stesso per Marcus che mi dice non sarà mai espresso si, si, ancora una volta così mi dice sempre di ciò e gli sci e faccio slalom tra le persone senza conoscere il nome tantomeno il cognome e lo posso fare guarda mi frattempo lui ci filma almeno non si scansa con una canon sto filmando questa cosa con Marcus si chiama Scholle, maia no Scholle espresso espresso io resto qua a inventare una canzone per l'espresso Scholle, io resto qua a inventare una canzone per l'espresso sto filmando nel frattempo per Marcus che si è fermato qua e sicuramente so che sei un altro potremmo raccontare questa canzone in prosa fatta per lui che sta cercando di vendere una rosa la rosa la vende apposta per l'espresso non lo so io comunque resto depresso e ci proverò ad inventare due libri di compare che ci sta per filmare a me e te e Marcus che stiamo qua per cantare questa canzone è fatta per sapere che noi siamo veri amanti espresso 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 cool ahahahah 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 bella eh cool ciao ciao